Ragazzi, proviamo assieme, vediamo un attimino Goku Genkidama Vediamo un pochino Goku Genkidama Che lì dà, è una lead 100% a tutti È una lead 100% a tutti, tutto 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 No, è buona, per il Battlefield è buona come lead All type skip più 3, 100% attack, death e HP Non fa schifo, ovvio, non la sfrutti più di tanto, però Insomma, in questo modo, ok, oh cavolo, ci sono poche orbe Vabbè, prendiamo 3, quanta death fa? Si prende 7%, 68.000 Forse con Goku a GL, se gli diamo tante orbe, può fare qualcosina Ma ho paura, ok? Grazie Yamcha Eh sì, che piglia un po' di danni, sì, è normale Però ricarica anche talmente tanti HP che uno se ne sbatte Perché è quello alla fine, ricarica talmente tanti HP che uno se ne sbatte Che piglia abbastanza danni Però, però, voglio, voglio vederlo sinceramente Eh, fatemi vedere, non mi ricordo neanche cosa faceva come... cosa Mega colossal, raises, lies, attacca baventi per un turno Cause mega colossal, damage to enemy, raises, lies, attacca ed F25 per un turno, ok? Va bene, ok In realtà lo possiamo sfruttare bene, sapete? In realtà lo possiamo sfruttare bene, sapete chat? Lo possiamo sfruttare bene Vicky, grazie mille Grazie mille per il follow Ok Ah, eccolo lì il Goku Che gira Vabbè Eh, Krillin Sappilo, sei esploso Sappilo, mi dispiace per te Dai Tarne Spero di aver letto bene, scusami Se ho letto male Bruschetta Grazie mille per il follow Ma non è bruttissima, infatti Però, sì, unezza sarebbe il top E io, allora Io spererei, sinceramente, per questa LR Che facciano un Unezza per tutti quelli che ce l'hanno Ok? Per tutti quelli che hanno superato i mille giorni Che facciano unezza per questa carta Sarebbe veramente figo Ai duemila giorni Non siamo ancora arrivati ai duemila giorni Quanto siamo al momento nel JAP come giorni? Quanto siamo? No, i 1500 li abbiamo già fatti I 1500 li abbiamo già fatti Oh, un po' di orb Un po' di orb Un po' di orb Vediamolo un po' Con doppio buffer anche 91.000 def Ora se la busta anche e tutto Beh, dai, no Non è malvagio ancora Non fa poi così tanto schifo come l'R Soprattutto per essere regalata Ma soprattutto è più forte No, vabbè Più forte di se l'R No No Quello no Quello no Sì, ragazzi No, no Ragazzi, Froze Tutti possono partecipare dopo alle coppie Ragazzi Metto il QR Il primo che entra Entra Se noto che è lo stesso nome alla partita dopo Lo chicco Fine Così vi do più chance a tutti di giocare Possibilmente Non mi ricordo quanto siamo Credo che DocanWiki Ne tenga conto di quanti Login siamo Però Non lo so Fatemi vedere Search Login Login rewards Allora, siamo super Ah Ok Li conta Siamo a mille No, ma questo è il global Ah no Ok Non si sa ancora Non si sa ancora Non si sa ancora Non si sa ancora Siamo a mille 1784 login Mancano ancora un po' di giorni ragazzi Ancora un po' di giorni ai 2000 Andiamo, ok Ti intanto esplodi, tranquillo In realtà qua mi becco dei bei danni che non vorrei beccare Ma va bene comunque No Quasi un anno Sì Praticamente Sì C'è Angelo Angelo Masullo Angelo Masullo Ce l'ha dal primo giorno del global Credo Quanto devo farmare per l'anniversario global? Mi puoi dare consiglio per favore? È tutto quello che puoi Fine Non si sa il zallone Non si sa Non si sa proprio il zallone Secondo te come l'anno scorso? A fine giugno esce il banner di Heroes magari con Vegito? No, difficile Vegito ragazzi Vorrei tanto che Che esca un bel Vegito super mega figo Però è dura Qua stiamo generando poche orbe Rip Quanto è def? 93.000 7% però è poco Sinceramente 7% è poco 7% è sinceramente poco Perché ci sono Vabbè È un LR È tutto ok Free to play è tutto Però Ci sono carte come il Goku che abbiamo qua Che fa il triplo Di suo Come se è arrivato a giocare a Dokkan Guardavo Living Hitchigo Guardavo Living Hitchigo all'epoca Lo G di Dokkan praticamente Living Hitchigo su YouTube era lo G di Dokkan Nah la nuke non serve a un cazzo Le nuke ragazzi non servono a niente in sto gioco Toglietevele dalla testa Non servono a niente Le nuke Per divertirsi Una volta in tre secondi e basta Nah sorry Fa ancora video Fa ancora video Living Hitchigo La prima È la prima history Io quando devo provare la roba Vado sempre nella prima history Vado sempre lì Con le STR La family e l'aerotech La family ce l'ho già Ad ability 2 Al momento Se devo prendere Faccio Vegito Tech O cooler Vegito Tech o cooler Se al Tanabata c'è cooler Io prendo cooler e non Vegito Perché mi diverto di più con Vegito Fine Quella è la situazione Mi diverto di più Quindi ci posso far poco Prenderai cooler Perché mi diverto di più Oh attenzione Tante orb Quanto siamo? 89.000 death Ok Però il danno Non ne facciamo molto La cosa brutta è questo Di danno non ne fa un cazzo Quando riconosci Living Hitchigo LOL Ma in realtà fa ancora video In realtà fa ancora video Boh Boh Non lo so Come tanking per ora Dai Come tanking per ora Dai Non fa totalmente schifo Non fa totalmente schifo Quando è il Tanabata La prossima celebrazione È praticamente Contemporanea con il Global Con l'anniversario No? Da noi c'è il Tanabata Nel JAP c'è il Tanabata Nel Global c'è l'anniversario Oh Sinceramente Non mi sta facendo Così tanto schifo Sapete? Non mi sta facendo Così tanto schifo Devo essere sincero Eh Vuoi sapere Che è stato il primo Che ho visto giocare a Dokkan? Lo scrivo con le virgolette Perché Ah Rip Romy Albe Rip Sinceramente Vabbè Rick Domi Sì Tutto a posto Sera Ma Guadagnar Sì 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 No Se si trasforma Non lo fa più Però alla fine Non ti serve neanche più È quello La questione è sempre quella Non serve neanche a un cazzo Vediamo così un attimo Quanto def arriviamo con il buffer? 90.000 L'unica cosa è che Stando secondo Superi i 100.000 def Ok Stando secondo Riesce a superare i 100.000 def Vaffanculo Trunks Aia Stando secondo Riesce a superare i 100.000 def Non è tanto però Non è tantissimo Quello è brutto No Sinceramente Sell no Grazie Io lo dico sempre No Sell no Grazie Db super che uscirà Io non credo di rivederlo Per almeno due anni Dragon Ball Super Non credo di rivederlo Per almeno due anni Dragon Ball Super C'è poco da Credo che almeno la saga di Moro Deve finire per andare avanti con l'anime Quindi Quando si muove a finire la saga di Moro Forse andremo avanti con l'anime Yeah Bellissimo Black mancio lol Ciao Gladitorav Rosé str Free to play Quando esce Con l'anniversario Che poi non è rosé È cosa È Zamasu Goku Sicuro rifaranno il film versionale Ma No Non credo Ne mancano tante di carte Recenti Trappellati dell'universo Oh Ci sono Praticamente tutti quelli Degli universi Che si potrebbe sfruttare Anche se Chi se li incula Ok Cioè Diciamola seriamente Ti inculeresti Quel Power Ranger Quel tizio là Power Ranger Ma no Chi se lo Chi se lo caga Oh Ok Famo così Non intacchiamo troppe orb Di qua Tiriamo un Dock and Moda Andiamo in 18 Di qua Ok Quanta def 100.000 100.000 L'abbiamo superata completamente 100.000 Yeah 100.000 Def Finalmente La saga di Moro È carina Perché Moro è carino Semplicemente Io non riesco a guardare Come disegna Toyotaro Non mi piace Già in manga Quando esce in Italia È minuscolo E cos'è È grande così È tutto scritto in piccolo E lui ha un piccolo problema Secondo me Fa troppa roba In una singola pagina Ok Non si capisce mai un cazzo Almeno io non capisco mai niente Ok Quindi Non lo riesco a seguire Mi da La noia Seguirlo Poi ci mette talmente Tante di quelle righe Che veramente Mi triggera Mi triggera Se era Oh 3 milioni Ok Ok 3 milioni Le abbiamo fatti Ok Ma aspettavo peggio Oh Dai 3 milioni Ci sta 3 milioni Li fa 3 milioni Li fa Dai Va bene Non è massimo Ovvio però Dai 3 milioni Li fa Non ci lamentiamo No È free to play È un regalino Basta Lol Black Manchuk Grazie mille Luigi Grazie mille Vediamo un attimo Ora Mi era bacio di Kefla Quella di Goget LR Kefla Perché Kefla Cosa ti aspettavi Una risposta Di vera C'è Kefla Ok No buffer Non arriviamo in 18 85 mila Non Non riesce a fare molto Quello è vero Non riesce a fare Veramente tanto Peccato Più che altro Peccato Tra quanto prendi È qui Mattia È qui È qui Ragazzi Il premio è qui Fine Chat È stato già preso È stato già preso il premio Quando ho trovato Che hai Ma che cazzo Riperto Un attimo solo Un secondo solo Ok Scusate Mi era arrivato un messaggio Per quello Stavo guardando Che cacchio era Roby Grazie mille Grazie mille Per il follow Ok Ci sono Scusate Goku ha counterato LOL Non l'ho visto Rip Rip Non l'ho visto Oh Sinceramente Porca Eva Santi Un attimo Un attimo Che mi è arrivato un messaggio Sto leggendo un attimo Importante Sembra Un secondo solo Ok Ok Scusate Scusate Stavo leggendo Era importante Un attimo Ma vabbè Ma sì Ma ovvio Ma questo è free Shingama Grazie mille Almeno provarlo Sfruttarlo La prima volta Che 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 arriva Nell'account Dai Quello Quello No Non è Lo devo fare Devo provarlo Almeno Dai Ok L'unica cosa brutta Sì Non riesce mai A raggiungere Troppo Sinceramente All'epoca Forse ci stava Un bel po' Ecco Kevin Grazie mille Ai primi Mille giorni Sinceramente Come carta Ci stava Sinceramente Come carta Ci stava Ai primi Orca Madosca Orcu Madoscu Ci siamo abbandonati Ragazzi Abbiamo perso Ah Sì Devo È vecchissima Quella clip Devo Vecchissima Quella roba là E rip Siamo morti Siamo mortaccioni Ora Rip No Leonardo Devi solo andare avanti Con la storia Sì Andiamo a fare un po' Di copy Di legends Ragazzi Andiamo a fare un po' Di copy Di legends Dopo aver finito Questo Siamo a voi Vabbè Dai Facciamolo esplodere Un po' Di audio Non l'ascoltiamo Da un po' Full audio Con la sigla sotto Così Vai Goku Rip No crit Dovrei togliere La musica Lasciare Cioè Dovrei togliere La musica Di Dokkan Lasciare Quella che abbiamo Adesso È Goku Che ti parla Sarebbe ridicolo Oh Santo Dio Se sarebbe ridicolo Rip Per le orbe Tra parentesi Rip Per le orbe Sì Se moriamo Amen 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 Questa è Questa è la best sigla Ragazzi C'è poco da fare Troppo bella Troppo bella Siamo morti Sì 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 Aragon Sì Anche lui ce li ha Questa è la turnazione dove c'è la possibilità di fare Track counter Se tirare 18 special Nesto Nesto la Ruben Sorry se ho detto male Grazie mille per il follow Oddio siamo still alive Norbs Riberotti Riberotti Giad Riperotti We died We We died Boys We died We We Fucking died Vabbè Dai Se li tanki GG Goku Oppure muori Samuele Grazie mille Livio Grazie mille Per il follow Siamo morti Riperotti Lo showcase finisce qua ragazzi L'abbiamo anche provata L'abbiamo anche provata È un regalino Amen Dai però Me l'aspettavo peggio io Quindi Alla fine dei conti GG Viu Ciao Viu 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 Viu